Avete visto questo libro che vi ho mostrato solo in piccolissima parte? Cercatelo perché finanziate anche tutte le iniziative di MECU, tra l'altro mercoledì… No, del museo, non di MECU, che se no sembra che MECU va in vacanza alle 6 scela a spese… No, ma se intanto hai detto prima che non rimana niente nelle tasche la gente ha sentito, quindi diciamo iniziativa del museo, però il museo… No, ma ti dico, chiedo scusa, mi spiace dire questa cosa perché tutti quanti vedono la mia faccia, ma il museo non è una ditta individuale, se non fosse per il lavoro di 50-60 volontari che settimanalmente tengono aperto, tengono pulito, arricchiscono, fanno… Per vedere gli amici della GRU anche… Gli amici del Toro Club La GRU, certo, ma come tanti altri club… Mercoledì cosa succede? Perché c'è un appuntamento importante al museo… Quindi in mattinata rimuovono i tre pennoni ancora in piedi al Filadelfia, siccome sono composti di due parti unite con una flangia, quando saranno a terra tagliano i bulloni, separano le due flange, li caricano su un trasporto eccezionale perché sono pezzi di 12 metri per circa 500 kg l'uno e li portano a Villa Claretta. Il pezzo più bello verrà posizionato su dei supporti che abbiamo fatto realizzare appositamente e rimarrà davanti alla Villa esposto. Gli altri sette pezzi staranno dietro, messi in modo che non si deteriori, non si rovinano, soprattutto non vadano persi. Bene, allora la telefonata Monica. Grazie Monica Negri. Grazie a tutti voi, buona settimana. Grazie a Maurizio Viviani. Un saluto a tutti. Meco Beccaria. Buonasera a tutti. Vi aspettiamo mercoledì per i pennoni. Buonasera a tutti. Poi agli amici. Buonasera a tutti.